Che cosa ci fai qui, signor? Hai perso il gomitolo di lana? Che spiritoso. Un latte in arrivo. Non sono in cerca di guai. Sono solo un umile gatto che vuole trovare da sfamarsi. Forse loro signori possono indicarmi un bottino facile. Beh, forse se uno di noi dovesse dire alle guardie che sei in città, potremmo dividerci la taglia. Avete fatto arrabbiare il gatto? Non vi conviene far arrabbiare il gatto! È insopportabile! Apri la porta. Chietta l'arma! Molto bene! Vattene a casa! No! Già bloggato! Ci hai provato! Quei fagioli magici erano il mio bottino. Mi sei costato l'occasione di arrivare alle uova d'oro. Incrocia le zampe! Vattene a casa! Vattene a casa! Quindi... duello di ballo martedì sera ma come o si fare la casetta e guarda 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 woulda guarda 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 guerra guarda 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 forward Grazie a tutti. Sfida mi, se o si. O si. Mi hai colpito in testa con una chitarra. Ma tu sei una femmina? Wow. Ah, dilettante. Miau, miau, miau. Signorita, aspetta! Spara! Vieni qui!